Siamo qui con Nicola Fornari, classe 86, terza linea dei Lions Piacenza. Nicola, è durissimo perdere così? Sì, è sicuramente durissimo. Secondo me, colpa nostra che il primo tempo praticamente non abbiamo giocato, abbiamo sempre subito le iniziative del San Donà. Nel secondo tempo, secondo me, ci siamo finalmente svegliati e abbiamo dimostrato che basta erano fatti, forse un po' tardi. Sicuramente nel primo tempo merito anche dei nostri avversari che hanno gestito ottimamente il campo, ci hanno costretto sempre nei nostri 22. Nel secondo tempo forse siamo stati decisamente penalizzati dal cartellino rosso, che comunque ci stava tutto. Lì abbiamo fatto un calo di concentrazione importante ed è la chiave in cui ci siamo giocati a partiti. Sul cartellino rosso? Sì, assolutamente sì, è stato l'errore che ha condizionato, perché in quel momento noi stavamo rientrando, l'inerzia era tutta dalla nostra parte, avevamo appena segnato, il nostro avversario è in difficoltà, gli abbiamo rimesso in partita, diciamo così, rimesso in partita. Senti, sembra comunque una squadra la tua dalle grandi potenzialità. Sì, purtroppo finora ancora inespresse, perché veniamo da due sconfitte, se vuoi, di misure, in cui abbiamo portato a casa un punto e in cui episodi ci hanno rubato la vittoria. Però dobbiamo sicuramente cominciare a esprimere queste potenzialità e cominciare a portare a casa dei punti importanti. Adesso non sarà facile, perché andiamo a Viadana, che sarà una partita durissima, però noi andiamo là sicuramente combattivi e decisi a portare a casa un buon risultato, perché i punti di bonus non ci bastano più. La chiave per migliorare è nella maggiore disciplina, soprattutto nel concedere meno infrazioni di gioco a favore degli avversari? Allora, sicuramente la disciplina è stato un problema, assolutamente sì, ed è un punto su cui dobbiamo lavorare. Secondo me dobbiamo anche cominciare a prendere in mano il nostro destino, cioè a giocare di più con la palla, non sempre aspettare quello che fanno gli avversari, ma prendere in mano la partita a noi, come abbiamo fatto nel secondo tempo e quello che è mancato secondo me nel primo. Nicola, domani la finale di Coppa del Mondo, chi vince? Secondo me è la Nuova Zelanda. Ringraziamo Nicola Fornari, complimenti alla maglia del più combattivo della partita, ben meritata, visto che ha segnato anche una meta. Grazie a voi, grazie a voi, buona serata a tutti.